In questo episodio Marcel, colto da un leggerissimo sospetto che l'elite si prenda gioco dei cristiani, cerca di rivelare alla propria fratellanza di Jean i pericoli che corrono a stare da faraone. E vediamo come andrà, conoscendo diciamo la gente, ci spero poco, però io comunque ci provo a portare via da faraone il mio popolo. Siccome sono stato in prigione anch'io, infatti adesso noi vedremo quali sono i segni di una setta, segni che indicano che tu ti trovi in una setta, e l'ho tradotta adesso, così proprio andiamo veloci. Però ecco, questo video si chiamerà Operazione Mosè, io sono Mosè, però non sono profeta, Dio non mi parla, eccetera eccetera, insomma, come il nostro faraone Eliseo. E qui vediamo, ecco, conoscete un po' la storiella, ecco, let go my people, I'm telling you! Mosè dice, però ripeto, a me non mi parla Dio, però siccome io mi trovo in questa quest, come lo si dice in italiano? Queste, in questo viaggio alla ricerca della verità, sono caduto in tante trappole e durante questo viaggio io racconto pubblicamente ogni volta che sono cascato, questa, siccome sono cascato anche un'altra volta, ho 40 anni e continuo a cascare, però si spera che questa sia stata l'ultima, come ho sempre fatto, pubblico sempre, faccio vedere un po' la trappola, così altre persone magari che vogliono seguirmi in questa direzione per la verità, qualsiasi essa sia, a me mi interessa la verità. Sembrava da averla trovata, però ero caduto in questa trappola, ci stavo stretto, avevo dubbi, però... E poi alla fine, insomma, sono uscito dalla trappola e vorrei che altri miei fratelli e sorelle possano uscire da questa trappola, ma sconoscendo, come ho detto, l'uomo, forse un 1% ce la farà, perché ho fatto parte di questa setta e vedevo come si comportavano. E quindi il compito, come vediamo qua, Mosè, il suo popolo era schiavizzato da Faraone, qui come vediamo, gli assomiglia pure, e Faraone aveva ordinato i piccoli israeliti, diciamo, ad essere ammazzati per ridurre la popolazione, c'è scritto qua, Pagola, questo è il tuo profeta che mette la muserola e non dice niente che tu hai bambini a scuola, fa anche rima, siamo più coglioni di prima. E quindi, operazione Mosè, quindi, popolo, vuoi sentire, vuoi prendere la mia mano, popolo? Popolo? Suona, suonano, è l'11 novembre, sono le 11, forse significherà qualcosa, ma non ce ne frega niente tutti, questi, cazzate, diciamo, di numeri. Allora, andiamo avanti, vediamo un po', Warning Signs Checklist, quindi, primi segni così, che dovrebbero farti svegliare, che dimostrano se ti trovi in un, in un, in un'assetta, diciamo. Qui in inglese chiamano cult, quindi, quali sono le caratteristiche di un'assetta, diciamo. Qui in rosso vedete in italiano. Il gruppo venera un uomo e i membri sono fedeli zelanti. Questo l'ho visto con i miei occhi. Ogni volta che i leaders del gruppo mi condividevano un post, tutte le altre pecorelle subito condividevano. Cioè, proprio, cervello spento completamente. Quello che facevano i leaders loro seguivano. Il gruppo è preoccupato a portare nuovi membri. Il gruppo è preoccupato a portare soldi. Poi lo vedremo tutte queste. Domandare, dubbio, dissenso, non sono benvenuti. E anche addirittura puniti. Tecniche di ipnosi, perché lui è stato anche esperto di ipnosi, lo ha sempre detto. Come canto o parlare in lingua. Un po' come fanno anche i cattolici, che fanno ripetizioni, così il cervello... Mind numbing, mind numbing. Il cervello, se va a far friggio quando fai queste tecniche, come canto, e lui canta, loro cantano, o parlare in lingue. Sveglia ragazzi, è più di prendere... Tu basta che vai su Google e trovi questa lista. E fatevi in qualche dubbio. Quindi ipnosi, eh? Sessioni pubbliche di denuncia per sopprimere dubbi sul gruppo o i suoi leader. Quindi pubblicamente, così, svergognare. Un po' come fanno i covidioti adesso, che ti puntano il dito e fanno il video, ti puntano il dito, ecco, lui non ha la museruola. E in comunismo, per esempio, come ho fatto, vedete, in diversi video, in Albania, per dire, prima degli anni 90, quando c'era il comunismo, per esempio in una fabbrica dove lavoravano i miei, io ero piccolo, però quando ho visto le foto dopo il comunismo, ho visto le foto, c'era praticamente un pannello dove mettevano gli operai che avevano lavorato di meno e li mettevano proprio là. Così, guarda, guarda, guarda come è stato cattivo lui. Non ha lavorato per niente, no? Così pubblicamente venivano svergognati, no? Questa è una tecnica importantissima. Così, perché suona anche il gruppo, crocifiggio, crocifiggio, e così non esce, è lui il leader che decide, no, lo fa pubblicamente. Cosa vogliamo fare di questo Gesù? Come ha fatto il re, no? Che l'ha crocifisso. Cosa vogliamo fare di questo? Crocifiggio, crocifiggio, no? Allora, il leader, quest'altro, un altro punto, i leader dettano in dettaglio come i membri, come i membri devono pensare, agire, dove vivere, come disciplinare i bambini. E da quello che sto sentendo, lui faceva tutto questo. A me addirittura ha osato dirmi che i miei post non gli piacevano. io l'ho saltato, ho fatto finta così di... di così, di... ok, va bene, ok. Ma poi, cioè, se ce li riprovavano un'altra volta, ma no, vaffanculo. Però già, già è cominciato l'ostacolo, cioè, lui vuole che controllare quello che penso e quello che scrivo nei miei post su Facebook? Che cosa, che cosa? Vabbè. Io ho avuto i miei dubbi da tanto tempo, ragazzi. Da quando... Tutto questo che sto elencando qua, io avevo dubbi. Mi sembrava tutto finto quando cantavano, quando parlavano in lingue. Io mi chiedevo, ma scusa, ma... Cioè, loro fanno finta di tradurre uno con l'altro quando parlano in lingue. Ma... avevo tante domande da porre, no? Perché sicuramente si vedeva che era una stronzata, no? Che lui, praticamente, riusciva a tradurre quell'altro fratello, il braccio destro lì, il braccio sinistro. E... Così, riuscirono a tradurre le minchiate che dicevo. Ora, il gruppo è elitista, si dichiarano speciali, infatti loro sono Elohim, il leader è considerato the Messiah, il Messia. Poi l'ultima, invenzioni, interpretazioni così, loro sulla Bibbia, rivelazioni, quindi Dio gli parla. Io l'ho fatto vedere nell'altro video che ho fatto ieri, dove fra le sue previsioni che non ci prendeva mai, no? Di anno in anno, ci mettevo anche perché Dio oggi mi ha parlato, questo fatto qua che a lui Dio gli parla. Infatti io, privatamente poi glielo ho scritto, tu sai benissimo che non ti parla nessun Dio, sei un... quando insomma l'ho mannato a fanculo. Ancora voleva spiegazioni su come io scrivo nei miei posti. Cosa vuoi? E quindi Dio comunica direttamente al leader. E purtroppo a te pecora è colpa tua, come dice lui. E ma tu devi chiedere allo spiegato santo e piano piano forse... Ma io sono speciale perché io sono un profeta a me io ho un collegamento diretto con Dio, no? E poi io mi chiedevo scusa ma se lui ultimamente è effettivamente diventato Dio perché non ci dice un po' perché non ferma tutto questo? Ma si limita tipo a mandare che ti possa venire un cancro per dire stiamo a livello deficiente proprio ragazzi e io spero che voi vi svegliate e non ho e poi un'altra cosa importante è dirlo subito questa che io non voglio followers ragazzi non voglio nessuno che mi segue perché mi dà proprio fastidio a me sta cosa per esempio qualcuno anche qui in casa quando faccio qualcosa lo faccio bene e qualcuno mi fa i complimenti tipo che c'è una terza persona mi dà fastidio no 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 lo rifermo subito basta non c'è bisogno che mi dici no proprio mi dà fastidio quindi non voglio like non voglio niente questo messaggio che butto lì quelli che verranno salvati che usciranno da questa setta bene quelli che non usciranno si trovano bene lì insomma si divertono a stare nella trappola perfetto a me essere controllato da qualcuno mi dà fastidio mi ha sempre dato fastidio e quindi continuo la mia ricerca della vita se qualcuno vuole continuare e uscire da questa trappola bene chi se ne frega quindi perché perché non voglio followers perché se sono circondato da followers ragazzi io non ho paura che se è il capo e poi diventi l'obiettivo di attacco no perché con questo video che sto facendo oggi ragazzi segnerò il mio fato perché questo è un video molto importante perché spiegherò perché questo secondo venuta di di Gesù è tutta un'invenzione ragazzi e questo se vedete insomma tutte le denominazioni cristiane quanto viene spinta questa seconda venuta seconda venuta ti fa venire qualche dubbio come mai io ogni volta che vedo tante pecore fare una cosa mi viene il dubbio e siccome a vedere la situazione in cui ci troviamo sicuramente uno direbbe sicuramente sbagliamo qualche cosa no perché facciamo preghiamo di tutto seguiamo questi leader seguiamo questi ma comunque la situazione va sempre peggio come mai dovrebbe far venire un dubbio questo quindi volevo al volo far vedere nel 2020 quando io e Alex ciao Alex stai vedendo il video forse è l'unico amico che ho su facebook ho 83 amici adesso sono scesi dai 100 che avevo perché le pecorelle del faraone sono andate da faraone e non che mi interessa perché come ho detto forse è l'unico amico vero che ho su facebook è Alex con lui facevamo facevamo video quando il profeta stava con la mascherina chiuso lockdown e io ho preso anche multe insieme a lui per andare rischiavamo uscivamo e facevamo interviste purtroppo youtube se c'è richiesta le potrò le potrò ripubblicare queste interviste che facevamo bellissime e in una di queste interviste di queste interviste a un certo punto lui doveva comprare qualcosa entriamo Alex qui in questo supermercato qua e incontriamo una signora che aveva un po' di cervello e cominciamo a parlare un po' con lei e io intanto stavo un po' intervistando diciamo così e sentite un po' cosa dice questa persona cioè sul fatto insomma che ma si sta succedendo questa cosa ma se voi credete in Dio non vi preoccupate andrà tutto bene quindi questa filosofia è proprio ce l'hanno tutti i credenti secondo me è un po' pericolosa spiegherò perché fra poco stanno per sterminare tutta l'umanità l'umanità signora e adesso con questa storia qua hanno la scusa perfetta per farlo e la signora che sta facendo la spesa da elite c'è scritto qua elite e se lo dicessi in inglese sarebbe perfetto perché direi tipo she is buying from elite but she is also buying what the bullshit of the elite puzzi quindi lei sta perché in inglese si dice sia comprare che crederci essere un credulone cascarci su qualcosa allo stesso modo buy comprare e quindi la signora sta facendo sia la spesa però e quindi è una cliente la signora sia dell'elite negozio ma è anche una cliente delle idee dell'elite questo traduce bene e la signora mi dice così ma non ti preoccupare se tu credi in Dio andrà tutto bene basta dice la signora basta basta fine lascia i bambini a farsi violentare in questo momento credi in Dio no? non lascia basta vuoi che Dio ti venga a pulire il culo quando hai fatto la cacca? vuoi anche quello? così tu proprio non fai niente Dio ti mette anche da mangiare tutto e mena i nemici tuoi tu non devi fare niente tu stai buono là perfetto ecco la signora questa è la filosofia della pecora perfetto andrà tutto bene no? quando saremo in campo ma pecora hai visto dove siamo finiti vi dirò io ma tu credi in Dio andrà tutto bene poi andremo mentre ci stanno proprio mettendo lì per spararci ma vedi pecora vedi pecora che dovevamo forse muovere il culo quando potevamo ma sta tranquillo adesso viene Dio e quindi quando il profeta di Dio mascherato perché lui sarà Dio però non è in grado di non mettere la museruola non è in grado e non vuole creare problemi e se non vuole creare adesso problemi fra poco quando ci leveranno ancora altre cose membri della setta non creiamo problemi non facciamo i talebani come Marcel grande Alex ci sono stati giorni che abbiamo fatto diverse interviste e una volta mi ricordo stavamo in mezzo a dei deficienti un gruppo così di coatti come si dice qua a Roma e giovani così mascherati e noi stavamo dicendo togliete sta maschera deficiente però non così ovviamente e loro erano un gruppetto hanno cominciato a fare un po' i duri e io ho cercato così di smorzare i toni invece Alex ha avuto le palle è stato fermo lì proprio e Alex ha proprio la mia stima per quello che ha fatto perché uno di loro voleva fare il due voleva menare ci volevano menare alla fine ma Alex che fa anche l'istruttore così di di ginnastica diciamo per tenere la pecora in forma come sappiamo e Alex è stato così in faccia a lui dai che ti fa mi è piaciuto grande Alex grande Alex e ok quindi questa è la filosofia pecorale adesso viene Dio e vediamo di andare avanti con la nostra presentazione perché Faraone ovviamente mi ha ha sguinzagliato i scagnozzi un po' come come qua come l'immagine andate andate a prendere Mosè cioè Marcello io sono Mosè ovviamente però come ho detto avrei avrei voluto trovare un altro analogia non usare Mosè però purtroppo è perfetta l'analogia però io non sono un profeta Dio non mi parla eccetera eccetera ecco anche lui Andrea Minicucci questa è una roba pubblica io lo faccio vedere stai molto attento tutto maiuscolo e io gli ho detto ma perché altrimenti i figli di Dio mi fanno fuori stai molto attento come osi criticare questo perché io ho fatto un video dove avevo messo cose pubbliche video pubblici di questo Dio Eliseo dove praticamente anno dopo anno non ci prendeva ecco ma siamo agli ultimi giorni proprio gli ultimi giorni e questo lo diceva per anni questi ultimi giorni ultimi giorni passano gli anni ma non ci hai preso non ci hai preso non ci hai preso non ci hai preso sono dieci anni che non c'è più alla fine lui ha deciso ah ora divento Dio così ecco ve l'ho detto che sarebbe venuto Dio eccolo qua capito alla fine che cazzo mi invento sono anni che non c'è più ah ma divento Dio io semplice e la pecor si ma come cazzo si fa sta ancora là quando lui ti dice che è Dio incredibile unbelievable e lui voleva Andrea Minicucci voleva proteggere Dio qualcuno ha osato criticare Dio e mi ha detto stai molto attento e io gli ho detto guarda vi è ma trova vi è ma trova siete delle pecore dementi purtroppo e io se ti faccio così a te tu scappi io se ti faccio così a te tu sei così stupido sei e questi sono i gadget che il nostro profeta vendeva ripeto questa lettera l'ha data anche a me questa carta di identità di pecora di una setta me l'ha data anche a me purtroppo anche io ci sono cascato ho spento il cervello e ho mandato la lettera come ha fatto lui proprio copiando quello è il sintomo di spegnere il cervello e di usare il cervello di un altro e ora spiegherò perché nessuno tocca Eliseo ragazzi perché lui è funzionalissimo per questo è andato anche dal TG5 perché il TG5 promuove qualsiasi cosa è perfetto per l'elite per chi ci controlla Eliseo è perfetto perché ti dice di non fare il talebano te la stanno per mettere ti stanno per tamponare fatti tamponare che Dio sta arrivando io spiegherò più in là che io non sto dicendo che non credo in Dio anzi forse questo qua che si crede in Dio non crede in Dio allora quindi questa dietro è la bandiera che loro hanno stampato c'è un giro adesso fra donazioni e cose e cose così gadget che vendono bellissimo e io qui ho il messaggio privato lo rimetto gli ho detto che tu sai benissimo che nessuno ti parla nessun Dio ti parla quindi basta questa cosa e praticamente chi ha visto il film The Wizard of Oz questo è Eliseo l'apparenza tutto a fuoco e parla che sembra non so se avete visto il film c'è questo immagino un po' come 1984 1984 il film che c'è il mega schermo questo Dio che parla questo leader però quando questo film è molto significativo questo qua The Wizard of Oz il mago di Oz come si trattava in italiano non lo so praticamente questi qua sono tutte pecore queste qua che facendo questo viaggio piano piano si levano le loro paure infatti qua uno di loro è un leone che ha paura c'è un leone che ha paura proprio noi in teoria se non avessimo paura sarebbimo come si dice qua a Roma dei leoni e quindi in questo viaggio per arrivare a dove questa ragazza deve arrivare no? in questo castello qua praticamente diventano adulti piano piano e scoprono che questo qua che gli diceva sempre di no 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 come osate eccetera eccetera alla fine loro vedono che era un semplice vecchietto così queste levette muoveva quella quella sua immagine così potente un po' come Eliseo quella sua immagine di Dio era un semplice stronzo che va come tutti noi insomma questa gente io come ho detto esiste perché c'è mercato per per non usare il cervello la gente non vuole usare il cervello quindi ecco perché spuntano fuori come funghi questi leader che ti portano da nessuna parte perché c'è c'è voglia di non fare niente comincia a far caldo strano perché c'è una ventilazione subsahariana diciamo che sta scaldando il clima nonostante io mi trovi in montagna in questo momento bene ci piace questo piccolo break dalle piogge che abbiamo avuto allora quindi leggiti la bibbia mi dice Lucia Fava questo è pubblico quindi Lucia Fava io ti voglio bene sempre come sorella ovviamente e spero che anche tu possa vedere fino alla fine il video perché sto per dire qualcosa fra poco che mi costerà la vita e qui leggiti la bibbia ma scusa leggiti la bibbia allora spiegherò spesso ah io gli ho detto ma sai quanti minchioni come lui ci sono stati venditori di fumo nei millenni che dicevano ecco arriva arriva adesso ci spariamo tutti ma sai quanta gente è morta veramente sul serio perché dicevano adesso sta arrivando il signore questa buffonata è cominciata nel questo del rapture Dio ci porterà via noi non dobbiamo fare niente è stata divulgata guarda la gente credeva nel 2011 effettivamente che che Dio sarebbe venuto Gesù il re Gesù sarebbe venuto e loro siamo nel 2021 purtroppo non ci hanno azzeccato neanche stavolta però questa cosa di non azzeccarci va avanti dal 1830 da quando i massoni hanno detto diamogli un eroe invisibile a questi attenzione non sto dicendo che non c'è Dio perché basta vedere il corpo umano per vedere che c'è un Dio ok andiamo avanti ecco qui non devi perdere questo appuntamento che succede una volta nella vita Gesù sta arrivando data di arrivo da un momento all'altro in un battito d'occhio all'ultima suonata di trombe chi può adrire chiunque creda che Gesù sta arrivando e quindi loro hanno fatto manifesti e tutto il 2011 salvo questo giorno perché sta arrivando Gesù questo è il 92 sei pronto nel 28 ottobre 92 Gesù sta arrivando date precise e il nostro profeta dice a giorni a giorni però sono anni che dice a giorni questa qua si è fatta a stampare la macchina con questa cosa e se non sbaglio ci sono anche membri di questa setta che facciamo parte che stampano sulle loro macchine cose che gli ha detto Dio e volevo dire il profeta e volevo dire lui è tutto ormai c'è proprio ora il mondo sta scoprendo che la Bibbia non è un libro di fiabe e io ho scritto qua forse perché chi ricordiamo per esempio la Bibbia è quella più migliore diciamo come Eliseo dice che la Diodati è la migliore Bibbia versione vecchia e buona affidabile in italiano in inglese c'è la King James Version King James Re Giacomo la versione di Re Giacomo quindi il Re ha pensato che fosse utile a lui tradurre quella Bibbia perché come sappiamo anche nella King James Version ci sono delle traduzioni che non sono molto buone perché come sappiamo la lingua originale è aramaico ebraico e grecaico e antaico o grecaico anche ah non conoscevi antaico o grecaico e e quindi ci sono delle mistranslation traduzioni fatte apposta male e e quindi dobbiamo capire che quindi uno si chiede ma ecco allora stanno succedendo queste cose come è scritto nella Bibbia questo perché chi ha scritto la Bibbia chi ha controllato le traduzioni e tutto e soprattutto loro sapendo che la gente non legge la Bibbia lei interpretazioni sono fatte come vogliono loro e piano piano le ultime versioni della Bibbia sono state modificate in modo da essere funzionali al sistema e loro possono benissimo interpretare la Bibbia in modo tale da far accettare quello che stanno per fare fra poco alla gente in modo tale che quello che accade cioè loro sembrano che guarda sta succedendo quello e quindi la gente ci casca proprio in pieno ci casca ma guarda sta succedendo esattamente come dice la Bibbia ma l'interpretazione del 99.99% della gente che segue che crede lo fa quelli che stanno in alto il pastore Dio in questo caso che ti dice che sta arrivando Dio quindi non devi fare niente sta arrivando Gesù quindi non devi fare niente quindi capito l'inganno capito perché loro ci prendono perché ci dicono guarda alla fine non si comprerà ma loro avevano questi soppiani che loro avevano da da millenni però per farle accettare alla gente gli diranno sì queste cose avverranno però tu non ti preoccupare perché verrà qualcuno a salvare tu non devi fare niente neutralizzati tutti neutralizzati solo quelli che potenzialmente potevano fare qualcosa cioè il credente che crede in Dio e quindi dice tu puoi ammazzare la carne ma l'anima io se ho fatto una vita giusta come il Signore vuole non mi succederà niente andrò a miglior a miglior spazio tempo quindi potenzialmente quel tipo di individuo non ha paura di morire invece adesso la gente ha molta paura di morire quindi che fanno stanno violentando il mio figlio con le museruole tutto quanto in questo momento per lavorare devo devo prendere il succo magico è meglio farlo perché io non vorrei non vorrei creare problemi perché comunque sia sta per arrivare il Signore e quindi tutta questa filosofia è perfetta per chi ci controlla perché in questo modo loro hanno neutralizzato tutto questo leone alla fine perché i numeri che noi abbiamo sono grandissimi loro sono poche famiglie che ci controllano però hanno un 99% che è completamente zombie dai diciamo 95% poi abbiamo questo 5% diviso tra 4% preso tra i Puzzer e Bio Blu e tutta questa roba qua quindi gente che ha paura che se qualcuno gli dice oh fa questo loro fra poco lo faranno infatti molti che vanno in strada sono già drogati diciamo drogati ok capito e quindi 99% eliminato poi gli altri il 99% per esempio hanno anche loro le loro versioni della chiesa di come credere che è completamente innocua al sistema però concentriamo adesso su su questo piccolissima frazione che se determinata ragazzi in America per esempio solo una piccolissima percentuale della popolazione ha combattuto contro gli inglesi e si sono liberati capite loro sanno benissimo che è molto per questo la propaganda è forte adesso ragazzi perché loro i coglioni che hanno preso che si sono drogati sono loro ormai ma non è abbastanza loro vogliono noi perché la pecora se noi non sto dicendo che succederà mai la situazione è ridicola ma se noi vinciamo la pecora viene sempre col vincitore ragazzi che non vuole combattere la pecora sceglie sempre il vincitore quello che mettono l'add a votare questo è forte ma voto questo così vinco sono deficienti purtroppo perché tifano tutti i Juve perché la prima è la più forte ma adesso sto cambiando un po' di cose però ci sono più tifosi nella squadra che è più più forte perché perché sono pecora e quindi questa piccola percentuale va attentamente controllata e quindi gli si dà a questi cristiani che sono un po' estremisti gli si dà quest'idea non devi fare niente neanche tu anche se tu capisci che che insomma gli altri cristiani sono quel che sono e però capisci che non non serve non serve e Dio sta arrivando e e poi vi ricordate che Costantino diciamo queste poche famiglie di aristocrati che ci controllano diciamo già allora ha detto a questi qua piace tantissimo questa storia del loro eroe Gesù lo sai che facciamo gli diciamo che anche noi siamo cristiani e fece questo loro da satanisti luciferiani diciamo che il paganesimo cambiarono misero misero la maschera di cristiani e hanno fatto la stessa cosa e continuano a farlo quindi è chiaro tutto questo ragazzi è che con tutto questo quindi tu cosa vuoi dire mi vuoi dire che non c'è Dio no allora come ho detto già cioè quelle parole sono potenti che sono scritte nella Bibbia e non c'è nessuna filosofia nessun nessun uomo che possa mai trovare un modo migliore di vivere è di coraggio che c'è scritto che c'è nella Bibbia quando parla Gesù ti fa venire i brividi quando vedi il coraggio che ha per esempio i più potenti che è andato lì con la frusta a cacciare i mercanti dal tempio ma tutti questi che si chiamano cristiani adesso perché cristiani significa io seguo Cristo followers of Christ come mai non seguono quello che fece Gesù questo perché la Bibbia la lasciano interpretare ai pezzi di merda in alto ovviamente nella Bibbia diciamo se tu leggi le parole di Gesù sono inconfondibili chiare perfette boom bellissimo però tutto il resto è interpretabile e interpretabile in modo che di solito siccome chi va a interpretare queste cose sono sempre loro in alto c'è c'è un modello a piramide nella nella Bibbia a forza di tradurlo come vogliono e interpretarlo come vogliono c'è un modello piramidale e infatti anche anche le congregazioni di questi cristiani estremisti diciamo come potremmo essere noi potrebbero chiamarci noi siamo i più estremisti di noi comunque c'è una piramide sempre sempre una struttura piramide che è molto funzionale e la mia intenzione è che l'uomo finché avremo così struttura piramide noi saremo sempre intrappolati da uno dall'altro perché tu non vuoi usare il cervello siccome noi sappiamo che la maggior parte della gente non userà mai il cervello però questo è un video per quei pochi che vogliono usare il cervello non credete a me non credete a Eliseo fate molta ricerca perché siamo immersi nell'inganno qua e alla fine quando uno dice ma mettiamo il caso non sto dicendo che non esiste mettiamo il caso che i più intelligenti degli uomini si sono messi la insieme hanno scritto questa bellissima guida su come vivere ecco alla fine questa guida tu arriverai fino alla fine della tua vita perché a un certo punto ti uccideranno perché sei completamente fuori da questo mondo diverso dal mondo però avrai avrai vissuto tutta la tua vita in modo gentile con gli altri gentile quando serve duro quando serve tutto quanto come ci ha insegnato Gesù e fino alla fine non avrai leccato culi per una persona che ha la natura mia per esempio quello è bellissimo infatti io quando ho lasciato il mio lavoro nel 2016 quando è stato l'ho lasciato perché io piangevo quando andavo non ce la facevo più a stare lì a qualcuno che faceva un lavoro stupido questo perché ero bambino allora e subivo e quindi dentro la mia natura quando qualcuno mi deve comandare così senza ragione per esempio perché io ce l'ho una testa a me non mi sta bene io preferisco andare infatti ho vissuto mangiando castagni come lo sto facendo anche adesso in montagna pur di non stare lì andavo giravo dove c'era la libertà dove non c'avevo qualcuno che mi comandava mi diceva come dovevo fare perché io ce l'ho un cervello e anche tu ce l'hai tutti noi ce l'abbiamo il cervello però a una parte della popolazione gli si dice di non usarlo di fidarsi di chi lo sa usare meglio di te e gli altri qui pochi in alto la usano infatti loro si chiedono si si proclamano illuminati sono illuminati dalla conoscenza che il loro dio lucifro gli ha dato il mio popolo muore per mancanza di conoscenza diceva Gesù quindi vediamo qualche qualche immagine Gesù è venuto all over your mom's pets questo è zozzone proprio non so perché l'ho incluso questo però era un po' divertente vediamo un po' i mostri massoni che promuovono questa avvenuta di Gesù e ovviamente loro Melchizedek il semprevivente sta tornando quindi questo è un è un pattern questa cosa di che qualcuno sta venendo a salvarti che loro lo possono indirizzare al new ager o al cristiano o quello che ti pare comunque è una cosa che funziona hanno visto gli si dà un eroe alla pecora che al bambino che così non deve fare niente quindi vediamo il logo qua come è fatto di chi spinge questa roba molto massonica questo logo sembrerebbe sembrerebbe e questo è il nostro mostriciatolo qua e come lui ce ne sono tanti guarda un altro un altro libro su c'è compagnia di luce luce lucifero e qui c'è anche la stella otto punte no che era lo stesso e qui vediamo i vari così preachers come si dice predicatori americani in giacca e cravatta no che pensano solo ai soldi Gesù sta arrivando però intanto tu dammi i soldi però sta arrivando Gesù tu intanto dammi i soldi non ci faremo niente perché fra poco Gesù ci pensa però comunque tu dammene qui un po' di gadget Gesù è diventato un prodotto ormai per il bambino papà sta arrivando tipo è bellissimo noi che siamo bambini piace questa cosa quindi ready or not Gesù is coming keep calm stai calmo Gesù is coming coming soon con Vesica Pisces Gesù is coming hide the porn questo è divertente c'era scritto per chi non sa l'inglese Gesù sta arrivando quindi nascondi tutte le riviste porno tipo Gesù please fix it Gesù risolvi questo problema pensaci tu c'è scritto qua in inglese bellissimo la dice lunga i bambini che si stanno violentando tutti i giorni no non ci pensa Gesù pensaci tu Gesù normal isn't coming back but Gesù is quindi questa situazione di anormalità di schiavitù che stiamo vivendo adesso non ritornerà più questo è una t-shirt recente non ritornerà più la normalità la libertà quindi ma Gesù si si continua a sognare incredibile e questa qua l'ho presa perché c'è questa famosa frase tipo what would Jesus do cosa farebbe Gesù che se se i cristiani veramente applicassero questa cosa ogni volta in qualsiasi situazione ma cosa farebbe Gesù adesso metterebbe la museruola avrebbe paura a prendere una multa queste sono domande senza risposta Gesù sta arrivando con la mascherina bellissimo are you ready siamo in america e poi qui ho visto un articolo che ho scritto uno che è stato subito attaccato perché ha messo anche lui in dubbio questa cosa sennò che lui dice scusa ma invece perché lui dice for many people to be raptured already means to lock the doors pack your bags and wait the rapture taxi quindi fermiamo tutto lasciamo aspettiamo che Gesù arrivi non c'è una missione non c'è niente da fare prendersi cura dei vicini no objectives obiettivi solo la paura di un mondo pronto a esplodere and the plans of a secret escape and il piano di un di una fuga segreta in mezzo alla notte durante la notte e qua dice Christ's mission tells us to plan our routes not pack our bags leggete questo se sapete l'inglese è molto interessante questo e poi anche lui dice so far everyone has been wrong fino ad adesso tutti non ci hanno azzeccato dal 1830 che dicono sta cosa cosa ti fa pensare che tu sia nel giusto diciamo è questo però ovviamente loro risponderanno ma non vedi che ci sono i segni dei tempi e io come ho risposto a Lucia ho detto ma tu sai che io ti vorrei portare in Albania quando noi facciamo la fila per mangiare il pane non dirmi che tu adesso stai bene perché prima stavano molto molto male la gente qua mi raccontano qui in questo piccolo paese in montagna le fatiche che facevano per sopravvivere c'erano gli animali sotto casa così il calore degli animali scaldava un po' la casa e per andare a prendere l'acqua la fonte stava lontano quindi si facevano i chilometri a piedi per portare l'acqua e tu mi stai dicendo che i segni ma i segni stanno arrivando perché come ti ho detto sono loro stessi che ti stanno preprogrammando con la Bibbia ad accettare quello che sta per arrivare e in più ti dicono di non fare niente perché tanto succederà tutto questo noi ti schiavizzeremo però non fare niente perché Gesù sta arrivando quindi leggete se si può leggere e poi questo sarebbe l'articolo se uno lo vuole leggere tutto e lui ovviamente è stato attaccato dalle pecore esattamente uguale a me perché qua una pecore gli ha detto ma Yuri ma tu credi ancora è in Gesù il tuo salvatore onnipotente del lord signore ovviamente lui ma qui ha risposto è stato molto più intelligente di me quest'altra pecora ha detto tutto questo che lui dice è tutto un suo ego perché vuole interpretare la Bibbia a modo suo invece di vedere come i mostri interpretano la Bibbia dove è scritto chiaramente che sta arrivando Gesù qui ci sono le pecore ragazzi ed è con la loro faccia questa è la pecore morta ma che non se ne è accorta qui praticamente the great rapture o questa illusione del grande rapimento così non è altro che freemason cabala viene da quelli in alto che ci controllano ragazzi e praticamente è emerso tutta questa cosa nel 1830 in Gran Bretagna è cresciuto proprio alla grande in America nell'ottocento il novecento il settanto ci sono stati altri insomma di tutto e di più su questa cosa hanno fatto film e libri su questa storia insomma e comunque noi ci troviamo sempre più inchiappettati diciamo dovrebbe far venire il dubbio a qualcuno però ovviamente siccome molta molta gente ripetiamo come sappiamo sono non sono sono bambini non vogliono perché quale sarebbe l'opzione in questo caso quale sarebbe l'opzione da fare perché come dice qua poi fammi dire anche questo Albert Pike cioè se quell'altro Aleister Crowley era satana questo era satana 2 diciamo ogni volta dice che il popolo vorrà un eroe noi glielo glielo daremo l'eroe qualsiasi cosa basta che non toccano il sistema e e niente ragazzi questa questa è la storia se noi non faremo niente noi siamo storia e siccome io ho vissuto in comunismo e so quello che sta per arrivare come ho detto in altri video in comunismo non c'è proprietà privata non c'è libertà di pensiero beh per molti che stanno da Eliseo libertà di pensiero non è un problema perdere la libertà di pensiero e comunque non sarà molto bello quindi forse non avete idea di quello che state perdendo però molti hanno già perso perché danno impasto i figli si fanno violentare per andare al lavoro e tutto quanto quindi già state avendo un assaggio e molti vedo che ci stanno bene perché si stanno adattando a questo nuovo normale quindi benissimo continuate così state lì nella vostra nel vostro vomito e perché ci state bene bene questo è un video per pochi e quei pochi non mi diranno ma scusa ma noi pochi cosa possiamo fare scusa io resterò no perché a un certo punto noi pochi che verremo visitati da questo mondo è il super marcio il 99% della gente è completamente opposta a te no però a differenza loro che leccano il culo tutti i giorni tutti quanti dal più ricco al più povero tutti leccano il culo perché c'è sempre una gerarchia siccome noi per natura non vogliamo farlo questa cosa qua noi pochi e noi pochi ovviamente non sto incitando alla rivoluzione niente che vuoi rivoluzionare che sono già morti ormai noi non leccheremo mai il culo fino alla fine e per questo io ringrazio le parole di Gesù cioè Dio che mi ha aperto gli occhi e mi ha detto guarda c'è anche un'opzione di fare il duro di essere adulto e non leccare più i culi c'è questa opzione vivi così in montagna come faccio adesso con poco e quando verrà il momento che i mostri ti vorranno fare il buco gli dici no dovrai combattere un po' con me prima che mi fai il buco e magari ci scappa e te lo faccio io il buco ecco questo non è un'incitazione a a a a ma è semplicemente una questione di qualsiasi animale su questa terra che è stato creato da Dio ha il diritto se qualcuno lo attacca ad essere difeso però oggi alla pecora gli si dice che se tu infatti anche nei telegiornali se qualcuno viene osa difendersi da qualcuno che lo sta attaccando finisce in prigione perché tu ovviamente devi essere trattato come un bambino è lo stato che ci deve pensare a te lo stato ovviamente sono questi qua questi qua questi mostri qua queste poche famiglie che ci trovano questi massoni qua che ci hanno dato la bellissima Bibbia ma la Bibbia potrebbe ci sono messaggi che ti fanno crescere anche non solo fra le parole di Gesù ma anche nella Bibbia se tu lo spulci un po' tutto però ovviamente lo devi devi usare la tua testa non devi lasciare qualcun altro che lo interpreti interpreti per te per te ok quindi siamo arrivati alla fine quindi fammi pensare avete visto avete visto il video che ha segnato il mio fato ma il mio fato è stato deciso da quando ho preso questa strada di fregarmelo di quello che vuole di far piacere alle persone almeno non me frega niente di quello che pensano non voglio accontentare nessuno e una volta che togli quelle catene sei libero io so che alla fine di questa vita se avrò fatto il tutto che è possibile a essere giusto a non far male a nessuno se non per difesa io so che lassù quando finirà questo piccolo test che stiamo avendo prima di tutto ho passato tutta la vita senza leccare culi a differenza vostra e se ti piace quest'idea magari non vivrai tanto non è che i dementi vivranno tanto perché è un po' difficile con tutte le le droghe che gli danno adesso ma comunque meglio pochi anni ma buoni liberi da essere libero poi se tu vuoi leccare culi go ahead let me go ahead i wanna lick asses for the rest of my life ok che dire sto pensando adesso se ho lasciato qualcosa o no ok mi ho parlato abbastanza ci vediamo nel prossimo video se ci sarà ciao ecco che stava me stava a scordare questo qua andiamo un po' in dettaglio sulle minchiate che dice lui no rettiliani no lui dice ci sono i rettiliani rap ce l'abbiamo già parlato minchiate nelle cose sue ci sono i rettiliani e poi fanno vedere ogni volta questi video con l'occhio io ho scritto qua fx c'è un programma che si chiama adobe after fx ti fa l'occhio ma quello che vuoi tu quello che vuoi tu te fa avete visto quelle foto che pubblico ogni tanto di greta che diventa maschio beh la gente ancora oggi non sa come come fa la tecnologia sembrerebbe che ce l'hanno i russi i server di foto app che è l'applicazione che ti fa diventare da maschio che è femmina ti invecchia ed è impressionante la tecnologia e io ti posso garantire che c'è tecnologia che semplicemente senza tanti problemi ti fa l'occhio come il gatto però ovviamente e poi ecco ci sono gli rettiliani e cazzo stanno per uscire dalle viscere della terra ma uno no perché David Dye che sta lì in Inghilterra che dice chi ci controlla sono rettili perché non gli fanno niente perché è funzionale David Dye sta lì dove c'è la regina o la lucertola perché non gli fanno niente perché è funzionale perché quando dice ah ma questi sono rettiliani allora lasciamoli perdere sono proprio degli alieni stanno per uscire dalle viscere della terra oh non tocchiamoli non tocchiamoli loro sono stronzi come noi questi che vediamo qua che voi fate come coglioni andate a vedere i video dove cambiano l'occhio con gli effetti loro sono stronzi che vanno a cagare come te e come me però se tu li vedi come un alieno tu tu non osi criticarli sono degli stronzi come noi esseri umani come noi toglietevi le minchiate che va messo in testa lui perché per lui sono perfette lui ha di ste minchiate che lui ripete da altri minchioni continua a prendere la sua attenzione ha una vita nelle sue ville tranquilla ha trovato dei dementi da controllare lì che leccano al culo e tutto quanto lui vive da da pascià nessuno lo tocca perché metta pure la museruola come deve perfetto no quindi stanno arrivando gli rettiliani quindi non facciamo niente quelli sono rettili sono speciali e quando usciranno mangeranno noi umani e usciranno dalle vicere della terra cosa può fare uno quando uno ti dice così e quando sei abbastanza bambino da crederci io ho sempre avuto dubbi su queste minchiate oppure chat chat con i potenti lui parla con i potenti voi che avete sentito queste minchiate che sapete di cosa sto parlando capite di cosa sto parlando e io ho sempre avuto dubbi su questa minchiata sempre però e infatti quello che facevo io quando non parlava quando non parlava di rettili e di chat con i potenti condividevo qualche video suo perché ovviamente lui ti deve dare un po' di dolce insieme al veleno ma quando mi cominciavo a parlare con chat con i potenti ho parlato con 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 Bill Gates ho parlato con 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 Draghi ho parlato con Piero Angelo oh fuck me amazing e perché nessuno lo denuncia ma che e no perché lui è perfetto io non so se è cosciente o se è pagato per prendere i polli come noi se io sparirò fra pochi giorni ragazzi lui era pagato per prendere i polli come noi e il mio video sparirà invece se non è allora è proprio coglione che semplicemente copia un un modello che viene dall'altro cioè di modo di vedere la vita la cristianità e tutto che è funzionale al sistema lo scopriremo solo vivendo donazioni gadget quindi lui forse la gente non lo sa che pubblicamente lui non lo dice ma lui chiede donazioni quando tu vai in privato lui e noi abbiamo avuto abbiamo ci siamo abbiamo sudato qua a forza di fare tutte queste stampe e tutte queste abbiamo semplicemente ordinato online ce le hanno fatte abbiamo dato un po' di soldi che sono i vostri soldi per fare l'impaginazione e la stampa niente dobbiamo semplicemente andare a ritirare la posta qua e là ci arrivano le stesse donazioni e siccome abbiamo avuto tutte queste cose per liberare voi pecore purtroppo ci servono delle donazioni diceva e questo dice in privato il dio come ho detto jesus needs money gesù ha bisogno di soldi in questo caso è dio che ha bisogno di soldi perché lui è dio ovviamente gadget lui vende gadget spillette bandiere cappellini magliette e la gente ci casca ma ci casca perché ci vuole cascare perché quale sarebbe l'alternativa di quelli là alza il culo e difendersi da quello che sta per arrivare ma loro dicono ma cosa posso fare io da solo io non mi so difendere da solo ecco c'è dio qua che funziona tutto e le succhiano leccano il culo di di eddie murphy eddie murphy è parlare in lingua come ho messo nel video fucking weird e poi che è dio insomma che è la stessa mentalità che hanno quelli che ci controllano che si credono dio e ci censurano perché ci prendono per bambini infatti tu finché ti farai prendere come da bambino lui ti tratterà così diventa adulto perché finché rimarrai bambino ci sarà sempre qualcuno che che sarai schiavo di qualcuno perché penserai come vuole lui quindi o alza la testa o accendi il cervello oppure diventerai lo schiavo di qualcuno bene credo di aver detto tutto l'operazione Mosè è stata è stata iniziata vediamo se va chi vuole seguire Mosè qua dio non mi ha parlato come ho detto però è solo una mano che sto allungando a chi lo vuole chi vuole uscire da quel buco là di Eliseo il buco di Eliseo il buco del culo qui vuole uscire Grazie.